Sicuramente è stata una grandissima emozione ritornare a Ravenna che ho passato il settore giovanile lì. È stata un po' una scelta zardata anche perché l'obiettivo iniziale sicuramente era quello dei play-off e non quello di vincere il campionato. La partita con la Ribelle mi è rimasta molto impressa, è stata veramente una grande gioia perché oltre comunque al primo gol con la maglia del Ravenna abbiamo coronato l'impegno di un anno sportivo che alla fine è diventato un sogno. È già riaperto il mercato, tu sei di proprietà del Cesena, ci sono tantissime squadre che stanno cercando tra cui Sant'Arcangelo, Ravenna, Trento, Adriese e Triestina. Cosa ci puoi dire in base al tuo futuro? Adesso sto un attimo valutando insieme al mio agente la soluzione migliore per la mia crescita. Sto cercando appunto una sistemazione dove poter giocare il più possibile e potermi mettere in mostra in modo tale da poter tornare qua a Cesena il prima possibile. Il tuo sogno quindi è quello di indossare la Malibanko Nera, magari in Serie A? Assolutamente, penso che sia il sogno di tutti i ragazzi che iniziano qua a Cesena. Grazie. Grazie. Grazie.